Perché il mini rugby è importante? Nelle scuole inglesi, nelle scuole anglosassoni, fa parte delle materie di insegnamento perché insegna i ragazzi a superare difficoltà, insegna i ragazzi ad andare avanti, a non fermarsi quando c'è un piccolo problema, li fa crescere, li fa ritrovare la voglia di giocare insieme agli altri bambini. È importante perché soprattutto in questa età i bambini devono sviluppare i loro schemi corporei e nel rugby penso che più che in altri sport riesca a farlo in modo più istintivo e naturale possibile. Poter riassumere questo sport con la parola sostegno perché a parte è uno dei principi e quindi rientra appunto nelle regole e poi perché senza di questo tu non puoi giocare, cioè nel senso da solo non puoi fare metà da solo, quindi hai bisogno sempre dei compagni di squadra, sempre del loro supporto. Abbiamo invece piacere che i ragazzi abbiano il contatto proprio tattile con la palla e gestiscano e vivano i momenti prima dell'allenamento, prima delle partite, avendo appunto questo pallone con sé come se fosse un oggetto prezioso da tenere lungo tutto il loro cammino.